Pompa di calore su casa a radiatori. Tutti dicono che non si può fare. Beh, oggi te lo dico anch'io. Infatti, per la prima volta farò un video in cui andiamo a parlare della caldaia e non della pompa di calore sui radiatori. Prima però di iniziare, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per vedere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, oggi siamo qui e voglio parlarti della caldaia. Sì, direi, ma Samuele hai parlato fino ad oggi solo delle pompe di calore e che possono essere installate su case a radiatori come questa e oggi mi parli della caldaia. Ebbene sì, voglio parlarti della caldaia. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè trasformare le loro case in 100% elettriche togliendo le caldaie e con le pompe di calore al loro posto. Non lo faccio io naturalmente, lo fa la rete di installatori e partner, sigillo sicuro. E se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica, beh, vai nel link che trovi qui sotto. Oggi allora parliamo della caldaia abbinata ai radiatori. Andiamo a vedere di che cosa si... No, non c'è più la caldaia. Anche qui hanno tolto la caldaia. E al suo posto hanno messo un addolcitore. Ebbene sì, dai. Anche in questo video allora parleremo della pompa di calore abbinata a una casa a radiatori. Ecco, tra l'altro, guarda che lavoro hanno fatto eccellente. Hanno tolto la caldaia, hanno messo l'addolcitore al suo posto in modo da ottimizzare gli spazi della casa. Infatti vedremo questo impianto straordinario. Vedrai come è stato realizzato per mantenere l'ordine e l'equilibrio anche familiare. Perché sappiamo che in casa non è che può essere stravolta per la pompa di calore. Faccio parlare direttamente a chi ha fatto sto lavoro che sicuramente lo conosce a memoria. Allora ti presento Alessio, partner di Sicilio Sicuro. Ciao, sono Ele. Ciao, ciao Alessio. E raccontaci un po'. Allora, qui abbiamo una casa a radiatori, pompa di calore in alta temperatura. Cosa hai fatto? Niente, abbiamo, considerando che all'interno del garage, futuro locale tecnico, avevamo, dietro al desiderio del cliente, invadere pochi i suoi spazi, abbiamo deciso di approfittare del nuovo spazio creato grazie allo smantellamento della caldaia. E' fantastico, cioè vedi, filtro, entrata, docitore. Però il lavoro che ha realizzato Alessio è stato veramente fantastico. Andiamo a vedere l'unità esterna che sembra così banale ma non diamola per scontata. Vieni con me. Cambio di programma, adesso dovrei farti vedere l'unità esterna. Te la faccio vedere subito dopo, prima però ti faccio sentire le parole del cliente. Eccoci qui allora con Enrico, che è stato l'autore perché è casa sua, che ha deciso di fare questo passo di vivere senza gas. Enrico ci raccontava che ha trovato molti ostacoli all'inizio per trasformare la sua casa in 100% elettrica perché tutti erano sfavorevoli. Sì, esatto. Chiunque con cui parlavo cercava di scoraggiarmi a fare questo passo perché mi dicevano, primo, che la pompa di calore sarebbe stata rumorosa e avrebbe arrecato disturbo ai vicini. Secondo, che avendo io un impianto con i termosifoni che non mi avrebbe funzionato, che nei periodi freddi di inverno sarebbe stato al freddo e nonostante questo ho deciso comunque di fare questo passo e devo dire che sono molto soddisfatto. Sono molto soddisfatto perché la pompa di calore è silenziosissima, quando è in pieno funzionamento quasi bisogna appoggiarci l'orecchio per sentire che è in funzione. Oltretutto è anche bella, quindi esteticamente fa la sua figura, anzi arreda anche il giardino dove l'ho posizionata. E poi funziona molto bene, quindi non ho avuto nessun problema con il riscaldamento. Ho cambiato solo le abitudini, lo tengo sempre acceso invece che accenderlo e spengerlo, ma la temperatura è costante, quindi anche la sensazione che provo è migliore di quella di prima. Io devo dire che sono contentissimo sia della pompa di calore che anche dell'impianto fotovoltaico, che funziona bene, però nei periodi estivi produco più del necessario, quindi sono veramente molto soddisfatto. Ho fatto anche il passo della macchina elettrica, abbiamo messo la colonnina per la ricarica e quindi non andiamo più dal benzinaio a mettere benzina e quindi un ulteriore risparmio. Tanta roba. Sì, contento su ogni fronte. Bene, ci fa piacere perché alla fine il nostro lavoro è questo, non è installare pompe di calore ma avere famiglie soddisfatte. Sì, e devo dire che anche gli spazi utilizzati sono stati molto contenuti, quindi sono riusciti, e devo dire anche questo bravura degli installatori, ad ottimizzare gli spazi. L'opera non è stata invasiva perché in casa non ho toccato niente, non ho dovuto aumentare gli elementi dei termosefoni, non ho dovuto smurare o fare tracce, assolutamente. In casa non ho toccato niente e solamente abbiamo passato i tubi in giardino e messo gli impianti in garage. Grazie. Ecco, ci tengo a concludere sul fatto che non è frutto del caso, che le cose funzionino, che si può passare a una caldaia, a una pompa di calore su casa a radiatori, perché le esperienze che ha avuto Enrico con installatori, con venditori, anche con progettisti che hanno detto no, non si può fare, sono tutte dettate però da un sentito dire, nessuno si è messo qui a fare effettivamente due calcoli e a dire qui non si può fare oppure si può fare. Quello che invece è stato fatto con Alessio e con la Mickey, dove hanno analizzato l'edificio, hanno analizzato l'impianto e hanno dedotto che si poteva effettivamente fare. Eccoci qui sull'unità esterna, quindi l'unità che serve per recuperare energia dall'aria e trasformarla poi in calore per riscaldare casa. Come vedi è stata fatta una platea per supportare il peso della pompa di calore, perché pesa 220 kg, ecco non è una cinesata, è una pompa di calore europea, tipo professionale, quindi ha anche il suo peso. E poi è stato fatto uno scavo, tutto attorno al giardino senza toccare nulla e tagliato poi il marciapiede, ma viene a vedere come è stato fatto il lavoro sul marciapiede. Ecco allora, le tubazioni sono state interrate, qui è stato tagliato sotto il marciapiede, in realtà sono state tolte anche le mattonelle e poi entrati in garage. Come vedi poi il processo di ripristino è stato fatto in maniera estremamente minuziosa, neanche si vede la differenza tra prima e dopo. Andiamo a vedere in centrale termica che secondo me è proprio la chicca di questo impianto, che ti ricordo essere in pompa di calore su casa a radiatori. Eccoci in centrale termica, nel cuore dell'impianto. Come vedi non era una centrale termica perché con la caldaia tutto era nella nicchia di prima, che adesso è stata adibita per l'adolcitore, il filtro dell'acqua di ingresso. Qui con Alessio che ha fatto veramente un lavoro certosino, in un metro e mezzo per un metro e mezzo è riuscito a farci stare una centrale termica per pompa di calore professionale. Raccontaci un po' Alessio i macro componenti che ci compongono questa centrale. Sì, come hai anticipato te, qua siamo riusciti in uno spazio molto ridotto anche dietro alla richiesta del cliente a inserire il modulo idronico, il modulo interno della pompa di calore, l'accumulo per acqua calda sanitaria e l'accumulo tecnico. Rispetto alla caldaia ex esistente ci siamo ricollegati con la vecchia tubazione installando un nuovo gruppo di rilancio. Ovviamente ci sono tutti gli accessori, il carico automatico e defangatore, l'obbligo con impianti, soprattutto su tutti, e i vari vari basi di espansione. Ecco, perché gruppo di rilancio, cioè la pompa? Perché tipicamente le caldaie hanno sempre un circolatore, cioè una pompa al loro interno e questo fa girare l'acqua anche nell'impianto. Passando però a un sistema, un pompa di calore, per come lavoriamo noi, lavoriamo con un puffer di acqua tecnica, indispensabile, se non hai già visto dei video vai a vederteli proprio sull'importanza del puffer per l'acqua tecnica, che mi lavora come separatore idraulico, quindi abbiamo sempre la necessità di rilanciare l'acqua poi dal puffer verso l'impianto di casa, quindi verso il radiatore. Poi qui, se non sbaglio, hai fatto anche tutto un lavoro legato al fotovoltaico. Sì, ovviamente, avendo un generatore a corrente elettrica, la volontà e il desiderio del cliente era diventare più possibilmente indipendente dai fornitori di energia elettrica e soprattutto essere più ecologico. Quindi abbiamo integrato tutto il sistema con un buon impianto fotovoltaico, con inverter in monofase da 6 kilowatt e un campo fotovoltaico di picco di 9 kilowatt e 10. Ok, anche il sistema di accumulo. Anche con un buon sistema di accumulo da due batterie, due pacchi batterie a 12 kilowattora ciascuna. Beh, a dire il vero, insomma, non sembra neanche una centrale termica e sei riuscito a fare veramente un lavoro, un'opera d'arte. Sì, abbiamo, con qualche misura in più, siamo riusciti a far rientrare. Sembra fatto tutto ad hoc, creato. Naturalmente è tutto un caso, cioè adesso arriva qui, butta i tubi e vede se ci stanno, invece no. Ragazzi, qui prima delle mani bisogna accendere il cervello, la testa, si progetta, si tenono giù le misure, si definiscono i passaggi e poi si realizza. Così si fanno le opere fatte bene, come Sigilio Sicuro, insomma, insegna. Vuoi dire due parole su come avete approcciato, come avete iniziato questa esperienza, questa avventura? Allora, io sono Michela, faccio parte dello studio tecnico Project House e il nostro lavoro è fondamentalmente un lavoro che parte dall'analisi fino al progetto dell'intervento. Quindi noi partiamo analizzando l'edificio in ogni sua componente, quindi da rilievo, analisi sia a livello di strutture sia a livello di impianto esistente, quello che è l'impianto esistente. Ovviamente tiriamo fuori la composizione della casa, quindi tutto ciò che riguarda paletti, solai, elementi disperdenti, infissi e da qui esce fuori un numero che fondamentalmente è il fabbisogno termico di ogni fabbricato. Da lì viene fuori la componente impianto esistente, quindi riusciamo con il numero degli elementi presenti a capire se quello che già è in essere soddisfa il nostro fabbisogno termico. Può esserci bisogno di un'integrazione oppure no, nel caso dell'enrico non è stata necessaria. Ecco, e qui sappiamo, cioè andiamo a capire se la pompa riuscirà o no nel suo intento, quindi ovviamente non installiamo cose a caso, però ecco deve esserci il risultato e questo bisogna che sia chiaro già in partenza giustamente. E da lì viene fuori tutto il progetto, quindi il giusto taglio di pompa di calore, tutta la componentistica che ruota intorno fino, nel caso di Enrico, all'esposizione fotovoltaica. Questo è il lavoro nostro, insomma. Bene, bene, grazie. Questo fa parte del protocollo sigillo sicuro che non a caso si chiama sigillo, appunto perché sigilliamo il computatore del gas in maniera sicura, cioè sappiamo quello che facciamo perché diamo al cliente già anche una previsione di quello che potrà essere la sua casa senza una canola. Bene, ringrazio tutti i componenti perché l'avventura può essere vissuta solo insieme, quindi cliente, progettista, installatore. E con questo ti saluto e ci vediamo nel prossimo video. Alla prossima!